Il Barletta archivia la pratica Canosa con il punteggio finale di 4 a 1 allo Stadio San Sabino va in scena una partita dai due volti per i barlettani che segnano due gol a pochi minuti dal fischio d'inizio poi subiscono il netto ritorno dei Canosini. Nonostante ciò la capolista del Gironea di eccellenza porta a casa i tre punti viaggiando a punteggio pieno 6 vittorie su 6 Canosa che resta a fanalino di coda ma arrivano segnali incoraggianti per il neotecnico Zinfollino pronti via e dopo circa 30 secondi i padroni di casa rischiano l'autogol con protagonista in negativo Sané ma il vantaggio del Barletta è solo rinviato al settimo minuto punizione di Vicedomini che coglie in preparato Taborda sul primo palo e 1 a 0 per la capolista. I ragazzi di Mister Farina non allentano la morsa e al nono trovano subito il raddoppio cross di Lavopa ed incornata vincente di Pignataro 2 a 0 e partita che sembra già chiusa. Il Canosa invece reagisce e al dodicesimo a Celti trova la via del gol ma la bandierina dell'assistente si alza fuori gioco e punteggio che non cambia. Al ventisettesimo ancora Canosa in avanti cross di Sangaré e colpo di testa di Conè che termina sul fondo. I padroni di casa insistono approfittando di un Barletta diverso dai primi minuti di gioco e al ventinovesimo Dascoli serve per la testa di Massari, Tucci e Abile a mettere in angolo. Dallo stesso corner battuto da Fanelli Sangaré prova la soluzione al volo e trova la rete, palla, l'incrocio, 1 a 2 e partita riaperta. L'inerzia sorride ancora al Canosa che al quarantesimo trova addirittura il pareggio con Caputo ma è di nuovo fuori gioco, nulla di fatto. Al quarantunesimo poi sempre Caputo potrebbe siglare il 2 a 2 tutto solo in aria ma calcia clamorosamente alto. Il primo tempo si chiude con il Barletta avanti ma il Canosa è vivo. Nella ripresa il Barletta torna a macinare gioco e occasioni. Al dodicesimo i ragazzi di Mister Farina guadagnano un calcio di rigore per un fallo in attacco. Dal dischetto Morra non sbaglia e sigla l'1 a 3 per i biancorossi. Canosa rimandato a distanza di sicurezza. Al sedicesimo Altares ci prova su punizione, Taborda para. Ancora Barletta al ventiquattresimo con il calcio piazzato di Dettoli alto sulla traversa. I Canosini non reagiscono. Al ventisettesimo il cross di Vicedomini trova il colpo di testa di Pignataro, traiettoria alta. Per il Canosa la partita si complica oltedormente al ventinovesimo. Sanè viene espulso per doppia munizione. Ciò che resta del match è normale amministrazione per i barlettani che al trentanovesimo arrotondano il punteggio con la conclusione deviata di Lavopa, Taborda abbattuto e 1 a 4 il tabellino. Canosa e Barletta torneranno in campo giovedì per i rispettivi match di ritorno della Coppa Italia di Lettanti.